Finalmente la zona tanto discussa di Colleparco, dove c'era il gattile, prende nuova vita. Ricordiamo che cosa è stato fatto, qual è l'intervento che è stato fatto appunto in quella zona. Sì, fa bene a ricordare nel 2009, quando ci siamo insediati, lì era, se non ricordo male, 50-60 cani, 200 gatti, una struttura posizionata su un parco pubblico che vi era da oltre 20 anni. Quindi è stato molto difficoltoso riuscire a togliere e liberare quest'area, ma soprattutto abbiamo speso dei soldi PISU, appunto per oltre 1 milione e 200 mila euro, appunto per realizzare una serie di giardini, la piazza, parcheggi, ma soprattutto abbiamo riqualificato campo per far giocare i giovani, un parco per i ragazzi di giovane età e quindi abbiamo fatto sì che questo quartiere, considerato sempre un quartiere dormitorio, possa essere invece un quartiere a misura d'uomo, a misura di famiglia. E questo ci fa piacere e domani vi invitiamo alle 10.30 appunto a farsi una passeggiata insieme, perché così vi potrete rendere conto veramente di quello che è stato realizzato.